ora si 2 vai 3 3 2 o 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 20 16 16 20 no 4 no no guarda ancora ancora buona buona vai? ora si ora quanti ce ne mancano quanto bastano per vincere 9 e 12 ancora come no so quattro c'è anche quella c'è b b b b b b b a b b b b s b b a b a b b b a b bufrani b b b a b b un po' qua, o che è questa quella? Quella, le altre non ci sono, erano le nozze, erano i quelcore non ci si serve oi, oi oio tu sei hai molta urla tu sei facile se ne è stata uno si è parte va bene ma se ne è stata uno questo è un po' le doppie madonna te hai visto? due salti a fare bocce bocce che bocce? no ci vogliono bocce no 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 non serve bocce palle 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 poco poco ma come mai? va 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 poche forma si vede si vede a me che si muove ma che sono si tira? no qualcuno c'è una cosa provi un poca macchia no 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 hai visto? no 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 che si arrabbia vieni qua 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 c'è chi si gira per la batteria oddio che forse era quello ciao 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 una volta per uno prego si accomodasse Anna 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 io mi faccio un giro da sola tu non ti capisci tu non ti capisci tu non ti capisci ma tu non ti capisci che fai ma tu va a cattare ma vai vai ci faccio vieni che sta attenta eh io vado con tua mamma oh la madonna è un pochino e chi è? e chi è? e chi è? e chi è? andiamo a stare chi è? ti vuoi tirare? il nostro quello quello ah si? e chi ci arriva là? è un pochino è un pochino è un pochino è un pochino parca maiale è un pochino è un pochino e chi è? è un pochino ti amo è un pochino è un pochino Grazie. 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 Che corre. Non c'è il freno l'amo. Mettete il quad piccolino. Non c'è il quad piccolino. Non c'è il quad piccolino. Vai, vai. Quattro. Sette e due nove. Non c'è lei? Eh, se c'era la prima non c'era il quad piccolo cavallo. E' già la vita. E' un lui e te lo cavallo. Ah, ha già da verde. Ma non l'ho buttato qua. Vai, due a cinque o non sei? Tutto visto che c'era il quad piccolo. Da qua in cuore che si può farla fare. Oh non c'era la prima... ...i me ne ho torturato. Sette, ma non c'era una grande. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dai, mamma! Ma mamma! Sì, via questo. Cosa è bella? Se avevano un re, un'appoggiavano. Sono l'ina, io la viaggia io, non cacciavo. Ma io non ho pensato. Oggi? Ma di chi è quella? Di pina. Io volevo che ce l'ho giù e lasciavo il set. Però io ho detto, si io che è una carta piccola. Ma io ho buttato apposta, non prendevo il dieci, perché sennò rimaneva il set. Allora buttavo tutto in resta. Sennò il set, addio. Le carte sono nostre. Buttavo tutto in resta. Non è il dio. Non è il dio. Non è il dio. Non è il dio. Tu puoi pigliare. Ma il mio figlio è il compagno. Ciao. 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 Io vorrei girare. Ciao. il mio indio non è nato il mio indio non è nato no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no andiamo a vedere la prenda qua sotto poi c'è la non l'ho detto io lui no, 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 no non l'ho presa la Ah, carrucciano i zanzali Nooo Sì, zanzali Eci Sì, ok, mamma Sì Poi ho preso le pietre e le ho buttate piano piano, le ho fatte cogliere. E dove? Ma venivano sotto. Peccorali? Ci hanno pure peccorali. Cosa sono peccorali? Poi i cani che abbaiavano, capito? Allora si incoraggiano. Si incoraggiano che c'erano i cani che si abbaiavano. E allora l'altro 4 o 5 che erano liberi se non abbaiavano. Quando c'è la canina in calore... 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 Ma le ho forzate pure... Angela me l'abbiamo mandata via. Ma la canina in calore... Chiude la porta che la risconti. Chiude, chiude. La finestra, no? Ma l'avete visto le pizze dove l'hai visto? Ma se troviamo... Va a ringo e sei chiamato. La ringo è chiusa. Ma davvero, fai più male e piglio. No, ma mi scendire che gli piero altre cose io. Ma mi scendire... Va bene. Va bene. Il perù. A vedere quando cominciano a preparare la macchina... Sì, siamo in compri o siamo in treni? Sì, siamo in compri, siamo in compri, è vero? Sì, siamo in compri, siamo in compri, siamo in compri. Sì, siamo in compri, siamo in compri. Sì, 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 siamo in compri.